benvenuti ragazzi sono stai già bene e bentorni sul mio canale ritardissimo ritardissimo però dopo tipo quasi quattro mesi anche di più sono trovato con il viaggio di fa 18 perché un po di pausa dei mondiali ragazzi sono uno che non è costante con le cose poi alla fine riesce sempre quasi a portare il fondo sono conto luci perché purtroppo sono con computer si sono vivo guardate il video del pronostico di uruguay francia e vi spiego perché siamo tornati qua dopo l'incontro col padre di alex e siamo un episodio questo qua abbastanza morto perché si va a fare nient'altro che allenamento come sempre vediamo che esercizi ci propongono ciò tre a tempo che ragazzi non riesco a parlare questi esercizi piuttosto semplici con questo tiri de broin guardate tira addirittura ragazzi esercizi da novizio di fifa sulla palestra qui c'è il palo poi c'è questo filtrante probabilmente il commentario non servirebbe neanche a niente in questi episodi per ragazzi tanto qua sbaglia anche tira passaggiante fatto un esercizio praticamente compiuto e speriamo lo faccio adesso sia me ragazzi un questo esercizio compiuto e adesso si fa ai cross dicevo insomma sia computer sostitutivo perché il mio ha deciso di morire senza mezzi termini abbiamo qua ante che va a crossare il preso company c'è un solo difensore nel centro qua il primo va a vuoto poi vediamo qua il secondo lo metto prende company sono cinque tentativi il terzo a buon fine lo mette segno di aturè poi ante de broin spara fuori ragazzi mi sa che questo esercizio da ripetuto c'è qui c'è l'ultimo tentativo con uno contro uno e sarà ripetuto questo questo esercizio non registrate gennaio questi episodi ragazzi pensate un po è luglio quindi non mi ricordo praticamente niente del viaggio dovrei cominciare a registrare tra poco ora che sono in pausa con i mondiali perché oggi sono tutti i quarti di finale ma anche le semifinali c'è questo travenzione lungo adesso esercizio è per più del 50 per cento compiuto quanto è questo che lo prende company due dati vanno usati bene e qui se no va ripetuto un'altra volta lettore di testa oa prende quello basso a sinistra e finalmente esercizio viene compiuto vediamo cosa da dirci l'allenatore ho la telecamera qui perché ho altri appunti da appoggiarla ce l'ho sopra una clessidra addirittura ah cosa ma la colazione spezzate già ok ante sempre diciamo tra i migliori ma ragazzi cosa ci conclude qui niente da dire sito la nostra camera ben con chi poi si andava a fare un amichevole contro le ms e lo stars credo ciao a tutti ragazzi ciao a tutti grazie grazie della visione ci si vede al prossimo episodio